E' l'entrano? E' lui! Come le vuoi? Questa! Treniamo le mani! Te! Come le vuoi? Questa! Questa cos'è? 50 euro! No, no! No, no! Aspetta! Dammi questo discorso! E' un po' questo! E' i soldi! Grazie! Ma... Vabbè! E' bello! Mi manca? Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Via Glù, in una casa fuori città, Gente tranquilla, che lavorava, la dove c'era l'erba ora c'è! Troppo veloce! Ecco! Mi hai detto di fare così! La dove c'era l'erba ora c'è! E' una città! E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo nella via blu, si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse, vado in città, e lo diceva, mentre piangeva, io gli domando, amico non sei contento, vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui, potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, mi sono nato, e in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? E' una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni ma otto sono lunghi, però quel ragazzone ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comprarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento. La dove c'era la terra ma ora c'è una città. Ma non serviciteit, ma confidenione in quanto riguardi How on dà f Expegare. E poi quella causa in questo a verde un maiuttore ulmai, prove GMC Ho pensarà. E poi la causa in questo a verde ormai provvedere. E poi la causa in questo a perder, ormai provvedere... E non so, non so, perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, 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 e no. Andiamo avanti così, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà, chissà, chissà, chissà come si farà, chissà. Predicatore, predicatore, uomo di regime, uomo di regime. Che sono i campioni, che sono i campioni, e anche quest'anno, e anche quest'anno, vi castigheremo, vi castigheremo. Chissà, chissà, come finirà, chissà, 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 come finirà. Chissà, chissà, chissà come finirà, chissà, chissà. Chissà, 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 chissà. Tutti stasera? No, no. Uno. Ma io sono emozionato, ragazzi. Ah, no, ma anch'io, eh. Ah, sì. Mi ricordo quando sei venuto fuori la prima volta. Da mia mamma? No, no, da tua mamma. No, no, la prima volta quando hai cantato il pezzo Sanremo. Terra promessa, sì. Come fai? Una terra promessa, un mondo diverso. Dove crescere i nostri pensieri? Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare un altro cammino. Era perfetta anche per Cerentano. Bellissimo, sì, davvero. È bello, infatti ti ho invidiato un po'. Anche io. Senti, come si chiama questo pezzo? Allora, la canzone si chiama La Nostra Vita. Tu però c'è un fatto, tu hai corso un rischio stasera. Che è successo? Eh no, prima hai detto la Juventus, siamo i campioni, vi castigheremo. No, me l'hai fatto dire tu. No, gli interisti, te l'hai fatto dire apposta, non vendi più dischi. È stato lui ieri a dirmi. Senti, i laziali, gli interisti, i minoristi, tutti contro ce l'hai adesso. Vedi, vedi che mi fa fare le cose, poi prima se le inventa e poi la coppa è mia. Forza a tutti, forza a tutti, forza a tutti. Senti, ma qual è il pezzo che fai adesso? Si chiama La Nostra Vita e domani è il mio compleanno. Ah, che è? Auguri! Quanti sono? Ci sono quasi. Sì. Eh, grazie. Allora, siccome dicono tutti che io mi invento, diciamo, tutte le cose per farmi pubblicità, ho detto, domani è la mia festa, esce il mio disco, se volete comprarlo, ho comprato. No, ma per chi? Se non volete, cioè, ognuno è lì per preparare. No, ma questo è un modo di parlare semplice, cosa c'entra, potrebbe dire. Eh, se vieni qui per forza bisogna dire cosa canti, cosa fai. No, no, ma io vengo qui per fare promozione. Sì. Certo, mi sembra... Cioè, non sei venuto per venire a trovarmi. Un po' perché per Rosita mi ha insistito un po'. Noi ci vediamo sempre al bar da Nemmo. Sì, lo so. Ti ricordi quel giorno? Non mi ricordo che io non sapevo di mettere la macchina. E io ti ho mandato a quel paese? Sì, infatti. Ma che è quel patto che ha messo la macchina? Di più, peggio. Sì, sì, ha detto qualcosa di più. Beh, puoi dirlo, eh. Cosa ho detto? Tutto quello che dici... Cosa ho detto io? Eh, cosa hai detto? Sì, non mi ricordo più. Cazzo vuoi? Ah, tu hai detto? Eh sì, non ti ricordi. E io cosa ho detto? Hai detto, ma sono Adriano. Ah, ho dovuto farmi riconoscere. C'è una macchina con i finestrini così, è normale, non ti potevo riconoscere. Senti, ma tu, allora questo pezzo che fai che canti, come si chiama la nostra vita? La nostra vita. E di cosa parla? La vostra vita, la vostra, la tua? Ma un po' di tutti, diciamo. Io penso che ci, nelle mie canzoni, come le canzoni di tanti artisti, da Pasqua a chiunque, ci si ritrova, no? La gente ci si ritrova. Quindi questa è leggermente autobiografica? Ma un po' tutto. Un po' tutte le cose che faccio sono autobiografiche. Posso? Ma anche te, c'è, ognuno viene a me. Cioè, dovevo arrivare? No, sì, sì, vabbè, a volte, perché c'è un fatto, è logico che quello che facciamo ci dà uno spunto, a volte per fare una canzone o per fare, non so, un film, o per fare uno spettacolo in televisione. Penso che tante canzoni nascono da quello che vivi, anche se poi, se hai successo, naturalmente le cose cambiano, però non ci si dimentica dove è, no? Abbiamo fatto questa canzone che è molto... Cioè, non ci si dimentica da dove arriviamo. Da dove, sì, certo. Quelle radici lì rimangono per sempre, alla fine. E quindi tu, c'è un po' di nostalgia in questo? Beh, ritornare indietro non è... non mi piace tanto l'idea, però il mio cuore è rimasto comunque lì, perché è difficile che i soldi possano cambiare questo, possano far cambiare questo. Poi, poi... Almeno... Poi c'è un fatto che... Lui, no, tu hai ragione sul fatto dei soldi, perché io e lui spendiamo tutto, eh, tutto quello che guadagniamo. Ma non ho detto che tu rifai la casa ogni... No. Tre, quattro mesi? No, no, questa qui è una frotta. Lo studio di registrazione sì, però. No, è sempre rimasto quello, uguale. A quello? Eh sì, sì. Però non mi hai mai invitato, eh? Eh? No, ti ho invitato, Rosita, ti ha invitato, soltanto che tu non c'eri quella volta. Ah no? No. Vedi che... Mi inviti? Mi hai invitato davanti a 20 milioni di persone? Certo. Perché stasera sono 20. Ah, sono 20. Secondo me... Allora io ti lascio cantare la canzone. Grazie. Ti do la chitarra? Sì. E tu a questa? No, l'altra è la mia. Cosa di più. Ciao, Ero. Grazie. 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 Grazie a tutti.